Oggi Oiovers ha mostrato il nuovo personaggio Dory 4 stelle tipo elettro presente all'interno di Sumeru L'avevamo già vista la nostra piccola amica all'interno dell'Harkon Quest E sembrerebbe che tutto quello che è introvabile lei lo possa trovare al giusto prezzo Detto questo andiamo a vedere per l'appunto voice acting, informazioni, materiali necessari, le metal skill e le mental burst Ma dopo il trailer ufficiale che è carinissimo, o almeno così mi hanno detto Il bazar di Dory Basta che paghi e lei ti trova tutto Con la slime È bellissimo No way Il Dijin No Your Mora is mine Allora Botto di roba da dire Carinissimo il personaggio Mi piace un casino come l'hanno caratterizzata Mi piace la voce in inglese Ma l'interazione di quanto lei si avida E il come interagisca col suo Dijin, il suo genio della lampada è fantastico Il fatto che per l'appunto lei combatta e ottenga tutte queste sue abilità grazie all'utilizzo del Il suo Dijin e al combattimento che di fatto lei non di primo acchito mette in atto ma fa fare Perché lei no, lei c'ha il cash E comunque benestante ma fa fare appunto al suo fedele aiutante Dijin della lampada È qualcosa di divertentissimo questo trailer davvero divertente Sembra essere un personaggio per l'appunto Che non si fa, che non si prende troppo sul serio Anche se ricopre un ruolo estremamente importante anche per l'economia di Sumeru Dito questo andiamo a vedere un attimino un po' più nello specifico Quali sono le sue informazioni Come vi dicevo la vision elettrica La costellazione si chiama Magiche Lucerna Che appunto la lucerna magica non serve neanche troppo tradotto dal latino Che si conduce appunto alla lampada La sua arma è una Claymore Ed era all'inizio inaspettato quando si vociferava all'inizio che potesse avere una Claymore Perché è un personaggio, l'avevamo già visto in passato Che delle bambine barra loli, barra adolescente Seppur piccine minute potessero utilizzare una Greatsword Ma nel suo caso ha sensissimo Poiché non è di fatto lei a brandirla Ma è appunto la sua slime Poi piccola parentesi La ho il poster di Dragon Quest Io sono un malato di Dragon Quest E vedere uno slimino che mi ricorda le slime Di appunto quel anime barra videogioco Per me è qualcosa di meraviglioso Il suo compleanno è il 21 dicembre La due piattrici inglese è Angeli Kunapaneni Che io non conosco Mentre la voice actress giapponese è Kaneda Tomoko Kaneda Tomoko Oltre che aver partecipato a tantissimi personaggi di Digimon Di Bomberman E di altri anime vari Che poi ora vi faccio vedere alla fine del video Perché secondo me è interessante Fa Bon Takun E se avete guardato Full Metal Panic Fumofu Ve lo tengo per dopo Questa perché è una chicca I suoi materiali per l'ascensione Sono da ricondurre Per l'appunto All'Elettro Regi Vanno il nuovo boss Che abbiamo visto Assieme al Gallinone E Funginio E i suoi level up di material Sono il fiore Quello a tot punte Questo poi appunto Sarà il terzo farming Là dove appunto Dovessimo volerla livellare Ma lei di fatto che cos'è? È un supporto È un personaggio supporto Che utilizza la vision elettrica Per sia curare i membri del team Sia ridare loro energia Supporto definitivo Lei ridà energy recharge Attraverso la sua elemental skill E dopo aver castato La sua elemental burst E evoca il genio della lampada Che in questo caso è il genie Che connesso al personaggio Vicino ad esso Lo aiuta appunto Connettendo il personaggio A riprendere sempre energia E HP Quindi è la support healer Non dico definitiva Perché un 4 stelle Probabilmente non avrà magari L'evalio di healing Di altri personaggi 5 stelle O comunque più avanti Però è estremamente interessante Come funziona questo personaggio E ci sta Che abbia questa sua meccanica Andando a vedere le sue Due abilità L'elemental skill E l'elemental burst Non ho capito bene Quale sia l'una E quale sia l'altra Credo che l'elemental burst E ora qua sicuramente sbaglio Sia la seguente Ovvero quella della permanenza In campo di genie E l'elemental skill Invece sia Il colpo Cazzazzarai Exatti Tutto l'ho detto male E evoca il suo genie Dalla lampada E aiuta In diversi modi Connette i membri vicini E li connette La connessione Per l'appunto Ristora gli HP In base agli HP massimi Di Dory E in più Continua a rigenerare energia In più Mette la condizione Eletro Quando Il colui che è connesso Il connettore Tra genie E il personaggio Colpisce un nemico Quest'ultimo infligge Electro damage Ogni 0.4 secondi Può esserci solo Un genie In campo Vediamola Guardiamola Lei tira genie Rimane connessa E muovendosi Infligge danno Continuativo Di tipo elettro Lì dà la scossa Di fatto Lei è chiaramente Il personaggio Che entra in campo Questa connessione Dovrebbe dare Sia energia Sia vita Sia energy Recharge Potrebbe essere Una soluzione Veramente devastante Per quei team Che necessitano L'elemento elettro Quindi applicare Eletro i vari personaggi Per poi Andare a fare Le reazioni successive Al di là Di un semplicissimo Electrocharge Pensate a questo punto A roba come Hyperbloom E aggravate Sembra qualcosa Di davvero Davvero interessante Una bella come meccanica Mi piace Mi piace un casino E il fatto che La vita che Il personaggio Che scusate Che genie ridà Sia connessa Alla vita massima Di Dory Ci fa pensare Che una delle importanti Statistiche Che andremo a andare E andremo a vedere Se vogliamo Per l'appunto Che curi molto Siano gli HP E questo ci apre Un po' di scenari Anche da un punto di vista Poi ipotetico Dell'arma Che potremo andare a vedere Mai presto Chiaramente Per le build Il talento Che si chiama Spiritwarding lamp Troubleshooter cannon Direttamente lei Tramite la lampada Spara al nemico Facendo dei danni Elettro Quando lei spara Ai suoi nemici Crea Due After sale service Rounds Quindi Due proiettili Due bussolotti Di servizio Dopo Servizio assistenza Dopo la vendita Che automaticamente Traccano i nemici E gli fanno Del danno Elettro Fatemela capire meglio Cosa vuol dire Che sono due bussolotti Che fanno tipo Hooming Hooming Che le vanno a cercare I nemici Gli infliggono danno Lei spara Esattamente E vedete che questi due bussolotti Arrivano E si connettono E vanno a colpire Personalmente la ritengo Super carina E non mi avete Mai forse Sentito così Contento Di un personaggio Che sembra una bambina Ma poi di fatto Per l'appunto Non lo è Che Per il quale io appunto Abbia dei Delle parole positive Ma credo che sia Molto originale Al di là Del copy paste Di Diona Lo sappiamo Il modello è quello Oio versere cicla i modelli Quello lo sappiamo Ma il fatto che ci sia il Dijin Che venga utilizzata la lampada Che abbia questa voce Questa caratterizzazione Questo fatto che sia molto avida Che tutti Che tutto ciò che ha addosso Ricordi opulenza Bene È un personaggio che personalmente Non vedo l'ora di pullare E di giocare Ora come vi avevo promesso La voice actress Di Dory Tomoko Kaneda Ha fatto i seguenti personaggi One Piece Boa Sandersonia Da giovane Poi ha fatto Giraki Il pokemon leggendario Andando su Ha fatto alcuni Dei Digimon Ha fatto Cullumon Ok Fammi ridere il fatto Che abbia fatto Cullumon La chiameremo Cullumon Un'ora in poi Ha fatto Bomberman Io che sono un malato Di Bomberman Mi piace tantissimo Ha fatto di Bleach Neltu E altri personaggi Che io non conosco tanto Perché non ho visto Quegli anime Alcuni videogiochi Di Clonoa Ha fatto Kara Comunque sempre creaturine Particolari E poi Mi ha fatto Bontacoon Di quello che vi dicevo prima Se avete giocato E avete visto Non giocato Scusate Se avete giocato Super Robot Wars Ma se avete visto Full Metal Alchemy Sfumofu Bene signori Esattamente Lei è Bontacoon Per poi arrivare A Shiron Di Bombergirl Fare Puyo Puyo Tetris Con Krabuncle E addirittura In Kingdom Hearts Melody of Memory Fa Kiritai O Kiriti Ora non so come Pronunciarlo Signori io spero Vivamente Che Dory vi sia piaciuta Che abbia attirato La vostra attenzione Che vi venga voglia O meno di pullarla Quello chiaramente Dipende da voi Ma per quanto mi riguarda Sono contento Che sia saltato fuori Un personaggio Così particolare Perché Ultimamente Forse Ci stavamo andando A indirizzare Verso dei personaggi Nuovi Che erano Si O la waifu O quella figa O quello Super tenebrale Però Secondo me Mi mancava Un po' Un qualcosa Di divertente Che avesse Un po' Di originalità Almeno personalmente Per quanto riguarda Appunto Questo aspetto Lei sicuramente Fa parte Di quella Strega Di personaggi Lì Detto questo Signori vi ringrazio Vi auguro Una buona serata Vi invito a iscrivervi Se non avete ancora fatto Lasciarmi un like E seguirmi anche Tutti i miei altri social In questo momento Se state guardando questo video Probabilmente sono live su Twitch Quindi vi invito a seguirmi Che trovate tutti i link In descrizione E anche a seguirmi Su Instagram Perché da lì Vi lascio sempre la storia Dove vi dico Boom Cliccate qua E venite in live Vi auguro una buona serata Di nuovo United State of Zerga Ciao belli I'm so happy I'm so happy I'm so happy I'm so happy I'm so happy